Arriva, una canzone richiesta da questo settore, che è il settore di teatro naturalmente, era una canzone che ho studiato innamorato. Però noi vogliamo ricordo che il giornatino fa come sentite il nome dell'autore, Cannata. Ma non dico un intrusivo, Cannata. E chiaramente noi stiamo sempre scherzando, perché queste sono cose molto serie, sono autori eccezionali, intramontabili, ci ricorderanno anche fra alcune cento anni. Parliamo di più. Noi parliamo così con noi, che non siamo più tecnici. Al flalto, la stauva... Borgnese. Cosa? La parola monese, vero? La parola di Cannata Posso? Daniela, per te anche! Tratta e poleconvenzi Niente cele, che spero, che Niente se faccia tragicamente Non sia sicuro che stai pronto Non mi so sicuro te O in vita, o in vita mia, o in cuore, e che su un cuore, si sta a me, o in mamma, o in me, l'ultimo sarà e che vede. Grazie. O in vita, o in vita mia, o in cuore, e che su un cuore, si sta a me, o in mamma, o in me, l'ultimo sarà e che vede. Allora, adesso passiamo alla terza strofa, naturalmente c'è lavoro anche per voi, eh? Mi raccomando. Allora, adesso passiamo alla terza strofa, naturalmente c'è lavoro anche per voi, l'ultimo è che vede. A me, a più belle, a più belle, non è mai più belle, te. Oiii. Oiii. Oiii che? Oiii che? Allora, maestro mi scusi ma vogliamo far cantare anche il pubblico no? Naturalmente. Questa bellissima gente qua. Allora, al nostro tre, il maestro con grafico, a tre e voi tutti. Oiii. D'accordo? Allora, prego. Interesco. Interesco. Ein, zwei, drei! Starete? Nemo i nazisti. Grazie, sono la tarota. Detisti, io! Allora, torniamo al nostro vecchio cuore italiano. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Oriso. Un, due, tre, Abb compañero. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Escrivino inuna. Dove. Un, due, tre. De justice e peaceВ Ana. Allora,casting. Un, due, tre. ? O il cuore, il suo cuore, si è stato un primo battone, un primo e l'ultimo sarà il cuore. Grazie a voi, ma lei se va del petano, no? Ci poteva dare una mano?